Le incredibili proprietà terapeutiche dell'alloro L'alloro è una pianta mediterranea che ha proprietà medicinali molto efficaci soprattutto per la salute digestiva. Cineolo ed eogenolo, due composti presenti nell'alloro, prevengono l'acidità di stomaco e la formazione di gas. Ma i benefici non finiscono qui. L'alloro ha effetti battericidi, antisettici, espettoranti e antinfiammatori. Viene usato da millenni per alleviare i sintomi di raffreddore, faringite e bronchite. L'alloro può essere utile anche a. regolare il ciclo mestruale. Dare energia e riattivare i muscoli. Alleviare le infezioni della bocca. Ridurre stress e ansia. Alleviare i sintomi dei reumatismi. Per godere dei benefici dell'alloro puoi preparare un eccellente infuso, portando ad ebollizione delle foglie secche. .